Eccolo lì, ecco il Gabri, 650 sì. Vai Gabri! Giulianone, Giulianone, FJ12 Forse potresti conoscerlo Che fischi? No, no Questo è Mauro Paolini Paoletti, lo conosci? Sì Lo conosci, Giuliano, se lo conosci, l'avete già visto? Sì, sì Sì, un altro giro, infatti mi ricordo quando siamo andati Va benissimo Oh Mauro! Eccolo il Giliot Il K1002 arriva Nove e mezzo, no? Nove e mezzo, perfetto Hai detto che venivi con la moglie Sì, questo è il mio scherzo Eccoli Ecco il Marco Ciao Ciao Angelo Come sei tecnico? Affigliamento c'è C'è Il resto manca Eh Son Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.